Bosch è un altro rinascimento. La mostra rende omaggio al grande genio fiammingo e alla sua fortuna nell'Europa meridionale. L'esposizione di Palazzo Reale a Milano mette in dialogo capolavori tradizionalmente attribuiti al maestro, con importanti opere di altri maestri fiamminghi, italiani e spagnoli, in un confronto con l'altro rinascimento che in anni coevi o immediatamente successivi, influenzerà grandi artisti come Tiziano, Raffaello, Gerolamo Savoldo, Dosso Dossi, Il Greco e molti altri.